Buongiorno, buonasera. Siamo sulla condizione eliminare fra questi due periodi della giornata. Grazie a tutti di essere qui. Questa è la conclusione, ma sarebbe in realtà il punto un po' più importante di un percorso che abbiamo fatto di preparazione e di ricerca tramite una serie di laboratori. Ne parleremo poi alla fine. Intanto salutiamo e ringraziamo tantissimo Chiara Spadaro, la professoressa Chiara Spadaro e il professor Vallerani. Un applauso. Non mi dilungo nel loro curriculum davvero importante. Il professor Vallerani è uno studioso di fama internazionale per quanto riguarda i sistemi fluviali e ha fatto tanto sia per quanto riguarda l'insegnamento e sia anche a livello di azione diretta, potremmo dire, per quanto riguarda i fiumi. So anche che è un caro amico dell'Eretrone che ci sta ospitando in questo momento. Chiara è stata anche allieva del professor Vallerani, a sua volta è geografa e antropologa. Chiara è anche stata davvero importante perché è coautrice di tutto questo evento, anche ispiratrice. E infine vogliamo anche ricordare che abita praticamente qui. Dunque chi meglio di lei può ospitarci in questo posto bellissimo, che è di proprietà di un altro cittadino, Andrea, che ringraziamo. Andrea fa parte del comitato dei ferrovieri. È davvero un cittadino modello perché si occupa di, come vedete, tenere in ordine e curare con amore questo spazio e lo rende, lo mette anche a disposizione del resto della cittadinanza. Quindi è davvero con un senso civico esemplare. C'è Martina della Cooperativa Insieme che vuole fare un saluto. Buon pomeriggio. Ringraziamo a nome di Insieme Cooperativa Sociale tutte le persone presenti a questo evento della quinta edizione di Di Sena Pianta che coorganizziamo assieme a Associazione Artemis. Leggo così non sbaglio. Per chi non ci conoscesse, insieme a una cooperativa sociale che si occupa di riuso, preparazione per il riutilizzo e riciclo con una mission sociale fondamentale che è creare percorsi di lavoro per persone con fragilità e svantaggio. Attraverso il nostro lavoro quotidiano cerchiamo di combattere lo spreco a tutela dell'ambiente e quindi cercare anche di essere humus della società ispirando e responsabilizzando le persone a valorizzare ogni esistenza e ogni cosa con azioni attente che riguardano il lavoro e l'ambiente. Questo lo facciamo anche attraverso collaborazioni e organizzazioni di eventi culturali e di sensibilizzazione. Scoprire nuovi modi di creare, fare e comunicare sostenibilità ambientale e sociale. Ci interessa creare reti con altre persone e altre professionalità che noi non abbiamo ed è per questo che rinnoviamo per il quinto anno la collaborazione con l'Associazione Artemis per di sana pianta. Se vuoi aggiungere i prossimi eventi, io vi saluto. Grazie. Sono, credo, ancora in preparazione per quanto riguarda le date. Forse alla fine magari ne parliamo. Devo solo ancora ricordare, ma ne parleremo meglio dopo alla fine, che in tutto il progetto è stato realizzato anche con l'Associazione Ubif con la quale abbiamo svolto un workshop fotografico. Ne parleremo alla fine, c'è anche una sorpresa dedicata a voi. Oggi abbiamo svolto un laboratorio sonoro sul paesaggio del Retrone con Renato Rinaldi. Dovrebbe essere qui in giro. Ecco, scusami, naturalmente. È come i suoni, c'è una discrepanza tra il vicino e il lontano. Bene, vi lascio la parola. Noi avevamo una... l'unica parola che dico è argini. Non lo so se rientra nelle cose che direte, ci piacerebbe. Va bene? Grazie. Bene, che dire. Sono molto lieto di essere qui, in questo luogo fluviale. È bene esordire dicendo sì, la parola argini ne abbiamo parlato, ne parleremo. E volevo un po' raccontare, perché parlando anche con Joe, di cos'è questo fiume che mi chiedevi. È un fiume di risorgiva che riceve acqua da altri torrenti di alimentazione prealpina, dunque il Retrone ha una sua caratteristica, che non è un fiume di risorgiva tranquillo come potrebbero essere altri fiumi di risorgiva nel territorio veneto, a partire dalla bassa veronese fino al Sile, le risorgive del Piave, giù giù fino all'Ivenza. Ma è un fiume che ricevendo appunto apporti prealpini può avere delle sue problematiche e Chiara lo sa bene, ogni tanto mi manda delle slide mostrando il fiume che è abbastanza alto, come cos'era febbraio l'ultima volta di quest'anno, e dunque è un fiume vivo che va oltre gli argini. Ed è importante aver presente queste sue portate, perché, come forse molti di voi sanno, abbiamo organizzato il 21 aprile di quest'anno una discesa in barca. Prima abbiamo fatto con la piccionaia una sorta di esplorazione terrestre, partendo proprio cercando il fiume in città, dunque valutando questa magnifica risorsa che la città di Vicenza a malapena riconosce, frequentando i suoi ponti, ma non guardando giù, buttando lo sguardo da ponte furo in poi. E qui volevo un po' soffermarmi sulla questione degli argini come un elemento che serve a definire una territorialità, serve a definire dei confini che però sono piuttosto, c'è un osmosi continuo, il fatto che noi siamo in questo, che non è un'argine, è una sponda allargata, dall'altro lato del fiume, in sponda destra, vedete che effettivamente c'è un argine vero e proprio, qui avete qualcosa di molto più dolce, una morfologia che consente una vivibilità più diretta, il fatto che ci sia un bosco, cioè la presenza di alberi, di là non ci sono perché ci sono delle regole che il genio civile impone per la sicurezza, e quindi è evidente che l'albero non è molto amato, non fa parte dello scenario dei fiumi, anche considerando per esempio la navigazione antica, immaginate quando i barcari tornavano su, perché andare a seconda della corrente è semplice, ma a risalire c'era bisogno del traino con gli animali, e quindi era importante che il cavallante, o quello che aveva il bue che tirava l'attiraglio, non doveva avere nessun albero, assolutamente, anche guardando le foto storiche, le foto antiche, conservate per esempio al Museo della Navigazione di Battaglia Terme, vedete il profilo degli argini, sono puliti, totalmente liberi da vegetazione, quindi quello che noi vediamo adesso è una visione post-moderna, una visione post-navigazione fluviale, che ha consentito il ritorno, la riconquista dell'albero, da parte degli alberi, delle arginature. Un po' come sta accadendo in montagna, quello che dice Mauro Varotto e tanti studiosi della montagna, anche voi che avete scritto il libro sulla Valleogra, la grande novità della montagna italiana è la percentuale di bosco che ha ripreso spazio a scapito dei prati, delle aree utilizzate per il pascolo, per le malghe, per l'allevamento ovino, caprino, eccetera. Quindi è qualcosa che la natura dimostra di essere molto dinamica. Ecco, quindi il mio primo intervento, poi ci si rimpalla con Chiara alcune considerazioni, sono soprattutto dedicate a quando l'argine diventa sicurezza, quando l'argine diventa opportunità di conoscenza e qui volevo un po' riallacciarmi alle arginature della bassa pianura, dove avete arginature che vanno oltre anche i 6, 7, 8, 9 metri sul piano di campagna, come potrebbero essere gli argini del Po Grande, dell'Adige, delle diramazioni dei fiumi quando si avvicinano verso la loro foce, dove la loro carattere, il pelo dell'acqua, è superiore di, appunto, anche di 5-6 metri rispetto al piano di campagna. Quindi sono dei fiumi pensili e l'arginatura è un punto di difesa, di controllo, ma anche di osservazione della campagna stessa. Quindi camminarci, andare in bici sopra gli argini, avete la possibilità di cogliere, l'orizzonte si amplia, sia verso la pianura, dove non avete punti di riferimento, se non qualche pioppo cipressino, pioppo italico o i campanili, quindi ecco la verticalità che si connota, ma anche dalla campagna voi vedete questa barriera di arginature, per esempio se osservate andando in treno verso Ferrara, a un certo punto sulla vostra sinistra vedete gli argini, da Polesella in poi, che sono questo ricorrente tema, quasi di rilievo, di montagna, di pianura, che emerge, molto regolare, che è il frutto di un lavoro secolare un po' eccessivo, ma di qualche mezzo secolo sì, che si sono continuamente riforzati, soprattutto a seguito di eventi tipo la piena del 51, quella del 66, eccetera. L'arginatura è un luogo di sfida, è un luogo di corridoio naturale, quindi ha in sé dei valori, che possono essere utilizzati anche per ricucire il nostro legame con la natura, insomma, quel poco in natura che c'è. Quindi sarebbe interessante raccogliere storie orali, per esempio Chiara potrebbe raccontarci se vai in cerca di bruscandoli, che rapporto hai con l'argine, col fatto che sei una rivierasca, quindi ha una posizione davvero favorevole, e il mio sogno sarebbe essere un rivierasco di qualche, anche un fosso mi basterebbe, non il retrone chiedo troppo, un corpo idrico che comunque mi consenta di attraccare una barca, per poi iniziare a galeggiare e farmi trasportare della corrente. come è stato fatto qua, partendo proprio dalla passerella organizzata dal Comune di Vicenza, e abbiamo col Comune, sono in contatto con varie persone che possono raccontarci cosa fare, come ripristinare il legame con l'acqua da parte dei vicentini. Grazie. Sì, abbiamo immaginato questo incontro come un dialogo abbastanza libero, abbiamo preparato una scaletta, adesso Francesco l'ha già esaurita quasi tutta praticamente, quindi devo un attimo riorientarmi, ha già toccato molti punti, insomma di quelli che ci piacerà oggi approfondire, anche insieme a voi, nel senso che ci sarà sicuramente spazio per le domande, ma anche se qualcuno vorrà fare un intervento, un commento, insomma è pensata in modo molto aperto questa chiacchierata. E volevo così partire da, ringraziando ovviamente Di Sana Pianta e tutte le persone che lavorano per questa rassegna, ma anche aggiungere altri ringraziamenti, ovviamente a Francesco, e portare subito con noi, con un terzo ringraziamento, un'autrice che è Belux, quindi il ringraziamento va a lei in qualche modo. Belux è stata una... insomma una figura molto importante, un attivista del movimento femminista statunitense, morta lo scorso anno, era un'autrice che ci ha lasciato dei libri che appunto ci aiutano a riflettere su queste questioni marginali, quindi il titolo anche di oggi, Argini con una M davanti, tra parentesi, nasce proprio come spunto da questo suo libro, Elogio del margine, in cui lei si rivela, insomma rivela il suo approccio, il suo sguardo sul mondo, in un'intervista con Maria Nadotti, che è una traduttrice molto importante in Italia. e in uno dei passaggi di questo libro, per restare sui temi acquatici, Belux racconta come in un corso, è stata anche professoressa, che teneva sulle letterature del terzo mondo, diciamo, oggi non si direbbe più così, comunque di paesi altri, faceva fare ai suoi studenti questo esercizio dell'acqua. E anche questo in qualche modo vi sembrerà una cosa molto semplice, di cui forse si parlava qualche anno fa. L'esercizio era semplicemente nel momento in cui aprivano il rubinetto la mattina, provare un attimo a riflettere sul tempo in cui l'acqua scorreva, questo consumo idrico, diciamo, del quotidiano che tutti noi sperimentiamo. La cosa che mi piace portare qui di questo esercizio e di questo passaggio del libro è che in qualche modo con questo... in questo modo lei voleva far riflettere i suoi studenti, le studentesse, su il rapporto che hanno con il resto del mondo. Quindi attraverso un gesto molto piccolo possiamo in qualche modo ritrovare le connessioni con parti anche molto lontane da noi. E questo mi riporta anche al retrone perché è quello che stiamo facendo, che abbiamo fatto in questi giorni grazie a Di Sana Pianta con i due laboratori, quello fotografico e quello sonoro, ma che in qualche modo anche il quartiere continua a fare da un po' di tempo sul fiume e sulle zone intorno. Oggi uno dei temi è anche che è il fatto proprio che il fiume è un concetto molto esteso anche paesaggisticamente, è proprio trovare dei modi di relazionarci con un mondo che è il mondo fluviale in questo caso, che è un piccolo mondo locale, se vogliamo, è un piccolo mondo dei ferrovieri perché tra l'altro abbiamo considerato anche in questi laboratori solo un tratto molto breve del retrone, appunto questo di via Baracca fondamentalmente, però che ci porta poi a connetterci con delle riflessioni di altri paesaggi d'acqua. E questo utilizzando i sensi, quindi nei casi dei laboratori di cui poi comunque parleremo meglio, la vista e l'udito, insomma, sono solo due di quelli che potevamo mettere in gioco e sui quali ci siamo soffermati per poi accorgerci che ci sono, insomma, anche dei cortocircuiti che spesso quando parliamo di suono dobbiamo fare riferimento alla vista che è stata sempre, diciamo, il senso primario nella lettura del paesaggio e che a volte dobbiamo ascoltare con gli occhi e invece guardare con le orecchie, come diceva, insomma, qualcuno. E che in questa attenzione al paesaggio con i sensi entrano in gioco tanti altri mondi ancora una volta. Quindi ci siamo ovviamente noi con i nostri corpi che lo attraversiamo e che esplorandolo produciamo cose in qualche modo solo per il fatto di essere lì. Magari disturbiamo qualcuno, ci accorgiamo che effettivamente c'è questo qualcun altro e entriamo in relazione. Quindi mi sembra che questo tema della relazione sia anche fondamentale quando parliamo dell'esplorazione dei paesaggi ovviamente fluviali e non solo. Uno dei temi su cui poi ti rilascerai la parola è la vita anche non umana. Le vite animali, per esempio, che possiamo incrociare lungo gli argini, che a volte si nascondono, che magari noi vorremmo conoscere più da vicino ma non sempre ne abbiamo la possibilità. In certi casi possiamo fare anche più danni con questo nostro volere avvicinarci o forse si può trovare anche lì una connessione. Su questo ti lascerai continuare. Sì, a proposito di sensi non hai nominato e invece io lo uso molto è l'odorato e quindi c'è anche la possibilità di ascoltare l'acqua, di vederla, ma anche di annusarla, annusare il paesaggio olfattivo, lo smellscape, dicono gli studiosi inglesi, anglofoni, che è fondamentale, potrebbe essere repulsivo, potrebbe essere, basta anche una nutria morta che si incastri lì o, che ne so, creerebbe un paesaggio olfattivo piuttosto repulsivo e dunque è importante poterlo apprezzare, cogliere, certe essenze di menta, mentuccia, ci sono tante piante aromatiche che crescono lungo via d'acqua e ci aiutano a capire. Per esempio navigando l'argine racchiude l'argine per esempio verso il basso corso, un conto è essere qui a una certa distanza dal mare dove c'è, è più facile sentire odore di montagna che altro, oppure scendendo il Brenta, nel canale di Brenta, in Val Sugana, si sentono gli odori delle cucine da legna che le hanno accese la sera, per esempio, sono degli odori tipici che si mescolano con l'acqua, con i muschi, frequentando i fiumi, ecco la cosa che io invito molti di voi, magari lo fanno, è come Chiara ha detto, di incorporarsi, di dare un'altra corporità, vuol dire starci dentro, navigarlo soprattutto, oppure come faceva Roger Dickin, un inglese che ha navigato, che ha navigato, ha visitato l'Inghilterra nuotando con la sua muta, un bel sacco impermeabile legato al piede, le pinne, e girava i fiumi del Saffolk, fiumiciattoli brevi, e comunque aveva questa esperienza di incorporarsi direttamente, e dunque lì parla proprio di odore, oltre che le temperature, nonostante la muta, quindi ci sono queste cose fisiche che ci avvicinano all'acqua. C'è un episodio che volevo raccontarvi quando ero dottorato di ricerca, quindi si parla tantissimi anni fa, in Catalogna avevamo un seminario, e il docente di riferimento ci diceva domani dobbiamo andare a visitare un corso d'acqua, l'Alto Ter, che è un fiume che nasce dai Pirenei e sfocia vicino a Girona, e diceva portate le mappe, un tacuino di appunti, tutto quello che serve per fare un lavoro sul campo, un costume da bagno e un asciugamano, e lì siamo rimasti interdetti, non capivamo, era anche aprile, però alla fine lui ci ha detto adesso che per studiare il fiume dovete camminare, dovete fare il bagno, toccare col piede, capire dove c'è il fango, i sassolini, le alghe, dove è viscido, e quindi ecco l'altro senso, il tatto, il tatto attraverso i piedi, e quindi dovete intorpidire l'acqua, vedere dove la corrente vi porta, sentirvi, farvi trasportare, quindi entrare in confidenza, in empatia fisica, sensoriale, totale, che è fondamentale per poi costruire un avostro dialogo col corso d'acqua, che è completo, non c'è solo l'ascolto e la vista, ma poi ci sarebbe anche il gusto, e quindi bere l'acqua, ovviamente il sapore di un'acqua di un torrente di montagna, rispetto al casuale, così, nuotando in un fiume di bassa pianura, è meglio non berla, ovviamente, può capitare però, può succedere, e avete degli altri sapori, e quindi fare come i sommelier d'acqua, di acqua di fiume, che è fondamentale, quindi tutti i cinque sensi li abbiamo toccati. Gli animali, chiaramente, siamo pieni di esseri all'octoni, estranei, io non so, molti giovani di qua non sanno neanche cos'è una tinca, una scardola, un spinarello, o il gambero di fiume, non quello della Louisiana, ormai siamo accerchiati da specie all'octone, che stanno totalmente mettendo in crisi, hanno già messo in crisi, tutto ciò che l'acqua dolce aveva di biodiversità acquea. Lasciamo stare gli uccelli, che ormai c'è anche arrivato l'ibis sacro dall'Egitto, non so se l'avete visto, un uccello col becco curvo, che sta colonizzando il basso corso di Brenta, Bacchiglione, verso le lagune tra Porto Caleri e la laguna di Venezia, si trova benissimo qui, perché il cambio climatico lo aiuta, non ha competitori, i crocai nostri non sanno neanche chi è questo, col becco curvo così, nidifica e prolifica bene, il fenicottero rosa, idem con patate, quindi se andate a vedere la Valle Mille Campi, che è l'unica pezzo di laguna in provincia di Padova, abbiamo delle colonie di fenicotteri che alcuni amici naturalisti riescono a catturare, mettono alla zampetta l'anellino e l'anellino lo trovano allo stagno di Cabras, in Sardegna, quindi l'ornitologo sa che ci sono queste mobilità di questi uccelli che non c'erano, ecco, questo, la presenza dei non umani, di questi animali, la nutria, dopo che altro, il pesce siluro, che sta divorando tutto, i dati degli amici naturalisti che studiano la fauna ittica, in Europa l'82% della fauna ittica ormai non c'è più, quindi capite bene che è un problema enorme, il pesce persico sole, le carpe, c'è veramente poco, insomma, che è rimasto, quindi io direi che lungo gli argini noi dobbiamo aver presente questa situazione di rischio, ma tenere presente quanti raccolte di, tu che lavori con la storia orale potresti fare raccolte di storie d'acqua e quindi intervistare dei rivieraschi che sappiano raccontarci cosa era veramente certe ricette, certi cibi, certi animali che venivano catturati, l'uso delle reti, pescatori d'acqua dolce, ce ne sono ancora appunto di domanda, in alcune zone ci sono, io ho fatto in tempo a conoscere, l'ultimo pescatore professionale, quindi iscritto alla Camera di Commercio, che pescava sul fiume Muson tra Campo San Piero e Mirano, e cosa pescava? Anguille, quando c'erano, e poi aveva i gamberi di fiume, insomma qualcosa riusciva a pescare, e c'era una domanda, io ho ancora in mente una foto che ho fatto, una trattoria a Peraga di Vigonza, che si chiamava Da Cacciane, Vini Scelti e Pesci del Tergola, quindi, per come dire, abbiamo, sono andato a chiedere questo, ma perché avete tenuto questa insegna? È perché è bellissima, che ricorda qualcosa che non c'è più, quindi ecco, gli argini contengono storie, contengono anche un tempo passato, che noi dobbiamo, voi soprattutto, di storia orale, dovete recuperare, insomma. Mentre parlavi mi veniva in mente questo tema dell'invisibilità, quindi, ovviamente ci sono, per esempio, questi esseri animali che in qualche modo si sono fatti più visibili ai nostri occhi e siamo diventati più sensibili, alcuni hanno iniziato a darci fastidio, prima non sapevamo neanche che esistevano, insomma, su questo c'è anche molto dibattito. Il fiume contiene anche degli elementi invisibili, ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa a Carpaneda, di come, diciamo, ci sia tutta una storia sotterranea che a volte è più difficile far emergere e mi riferisco, ad esempio, all'inquinamento da Pfas, che ovviamente non possiamo, diciamo, non portarlo oggi in questo dibattito, perché è una questione su cui non mi soffermo troppo nel dettaglio perché, immagino, la conosciamo già bene. Comunque, è una questione gravissima questo inquinamento molto grave delle acque che, tra l'altro, in questo tratto del retrone ha anche altre sfaccettature che presto vedremo sulla nostra pelle, sui nostri corpi, purtroppo, perché il cantiere del TAV comunque prenderà acqua inquinata per, appunto, le opere che si dovranno svolgere poco lontano da qui e questo porterà in circolo l'IPFAS non più solo attraverso l'acqua, il suolo, l'agricoltura, insomma, tutte queste cose di cui fino ad oggi si sta parlando molto, per fortuna, ma anche tramite l'aria, attraverso la polverizzazione e, diciamo, nuove frontiere a cui finora forse non avevamo tanto pensato che ripartono dall'acqua come fluido e lo rimettono in circolazione inquinata e quindi dannosa, pericolosa in altre forme. e questo in qualche modo ci porta anche nel cuore della crisi ambientale il fiume rappresenta anche questo, è un fiume altamente inquinato, poco più avanti dove vedete insomma quelle reti arancioni ci sono dei cartelli che sono stati messi dagli attivisti che la scorsa settimana un paio di settimane fa hanno organizzato proprio un campeggio climatico qui vicino i cartelli dicono anche rispetto a quello che raccontavi prima qui la situazione è veramente drammaticamente opposta nel senso che questi cartelli recitano attenzione assolutamente in quest'acqua non fare il bagno non berla perché diciamo in qualche modo il capitalismo l'ha inquinata sono elencate tre principali sostanze che sono appunto il FAS il glifosate e le schericchia coli quindi tre sostanze che sono state tre elementi che sono stati trovati dalle recenti analisi di questo fiume che in qualche modo ci portano molto lontani da un immaginario che a volte abbiamo anche bucolico di altri fiumi che per fortuna sono effettivamente più sani e diciamo in questo caso è veramente fondamentale che ci sia anche un ruolo politico una volontà di andare verso una un ripristino di queste acque perché è possibile farlo giusto Francesco magari su questo anche mi piacerebbe che ci dicessi qualcosa visto che anche oggi l'amministrazione in qualche modo sembra interessata ad andare verso questo quindi prendendo forse un po' il modello di Padova che è quello più vicino tornare a navigare il retrone anche in sicurezza perché insomma è da un po' che con Francesco per esempio parliamo dell'idea di mettere una barchetta qua vicina e muoversi con quella che insomma è anche un mezzo di trasporto che a breve con i cantieri del Tav renderà diciamo la mobilità molto più veloce che non muoversi per esempio con una macchina con la bicicletta da vedere forse siamo lì come tempistiche però effettivamente se poi c'è questo rischio di inquinamento insomma di un pericolo che viene effettivamente anche dall'acqua molti potrebbero essere scoraggiati dal farlo no? Sì beh chiaramente qui la situazione allora Padova è nominata c'erano gli emissi del Piovego che hanno cominciato a lavorare a Padova dal 1984 perché non c'era il collegamento fognario di un quartiere a ovest delle mura quindi 80.000 cittadini acqua nera andavano sulle vie d'acqua interne sul tronco maestro per chi conosce un pochino Padova e dove c'è il dipartimento di biologia dove c'è il bar i tre scalini c'erano le scalinate dipinte raffigurate da canaletto ed erano coperte da sembrava come se qua sotto ci fosse un reperto rinascimentale insomma dopo anni e anni di battaglie siamo riusciti a far fare questa cittadini ovviamente dal basso e quindi ci vuole la pressione ci vogliono dei giornalisti che aiutino all'epoca c'era era appena venuto fuori il mattino di Padova che rispetto al gazzettino era molto più attento a queste tematiche per cui dava risonanza il cittadino ha bisogno di risonanza mediatica perché allora il politico si sospettisce si spaventa e ascolta di più secondo me dovreste lavorare con questo tipo di giunta che avete miracolosamente visto lo scenario globale potremmo dire per poter fare il possibile entro qualcosa almeno avviare ok ci sarà la TAV ma almeno cominciamo a disinquinare il corso d'acqua che non è impossibile basta un po' ecco vi faccio un esempio nel 2022 c'è stata una siccità incredibile a Padova ovunque la riviera del Brenta gli operatori del Burchielo hanno perso oltre 350.000 euro di lavoro non fatto perché non si poteva navigare perché era bassissima l'acqua e a Padova il tronco maestro era talmente basso che sono venute alla luce tutti gli scarichi abusivi che è incredibile c'è un Alberto Barussel che conosci anche tu un nostro collega ha potuto fare un censimento di tutte gli scarichi abusivi che non si vedevano tu parli di invisibilità effettivamente la siccità ha consentito di fare una mappatura degli scarichi abusivi che scaricavano nel tronco maestro che è acqua che viene da qui parte di quest'acqua attraverso il bacchiglione entra a Padova insomma io credo che se buttiamo qualcosa qui in una settimana forse di più arriva poi in centro a Padova perché il retrone è strettamente connesso all'idraulica padovana quindi è anche bello avere questa unione tra città che si odiavano nel medioevo si odiavano anche in tempi più recenti ma questioni calcistiche col Padova e l'anerossi non so come si chiami adesso ed è interessante dunque capire è possibile disinquinare vi faccio un esempio se avete voglia di divertirvi con il computer andate a vedere Urban Swimming Bern vi fanno vedere cos'è Bern col fiume AR sono due A iniziali dove è possibile c'è la gente che va a lavorare a parte a monte la corrente è molto veloce con la muta come faceva Roger Dicking mette giacca e cravatta dentro la borsa impermeabile arrivano fanno tutto il giro di questa città UNESCO che è meravigliosa scendono dove c'è la city cioè gli uffici c'è lo spogliatoio delle banche perché è previsto e quindi poi si mettono a posto e sono nel loro posto d'ufficio dopo essere discesi per 5, 6, 7 chilometri con la corrente a favore e poi tornano con l'autobus tutta la loro roba asciugamani la muta qualunque cosa che uno può portarsi il costume eccetera e tornano con l'autobus questo lo fai ovviamente da maggio giugno luglio agosto settembre dipende questo è un esempio incredibile di efficacia di un'amministrazione che ha saputo disinquinare controllare mettere in sesto le acque di una città questo si poteva fare da noi con il contratto di fiume che purtroppo è fallito sta fallendo sono iniziative dovute alla direttiva quadro acque del 2000 numero 60 della comunità europea per poter nel 2000 si diceva garantire la qualità ecologica dei corsi d'acqua europei entro il 2015 che anno siamo 2024 in base alla direttiva 2060 il retrone è in infrazione quindi bisogna un po' star dietro le amministrazioni voi cittadini potete farlo iniziativa come quella di oggi penso che possa essere una buona idea alla luce poi di quello che magari con Chiara ne parliamo dopo sta accadendo col cambio climatico cioè quello che succederà le tradizionali visioni ingegneristiche vetero ingegneristiche di previsione delle piene delle piene cioè quello che è accaduto in Romagna avrebbe dovuto accadere ogni 100 anni è accaduto dopo tre anni no il 22 e il 24 quindi è una situazione qual è il peccato originale che le nostre regioni hanno il consumo di suolo io mai smetterò di insistere su questo tema quanto suolo è stato impermeabilizzato un millimetro d'acqua per metro quadro è un litro 350 millimetri sono 350 litri per metro quadro calcolate la superficie del territorio irrigato sono centinaia di migliaia di metri quadri milioni di metri quadri quindi quanti metri cubi 350 millimetri vanno bene in tre mesi ma in due giorni 48 ore 72 ore capite bene che abbiamo cementificato troppo questo è un po' il problema vitale che non è la legge per il contenimento del consumo di suolo è una barzelletta sinceramente perché è piena di deroghe quindi vi potete immaginare cosa accade con la deroga deroga vuol dire si può fare lungo i caselli autostradali è possibile edificare nel raggio di un chilometro e mezzo per capirsi uno dei tanti esempi abbiamo costruito tra il 2002 e il 2006 non so quanti capannoni inutilizzati perché c'era la legge Tremonti che consentiva gli sgravi fiscali eccetera eccetera e adesso quel cemento bisogna farne ancora perché non utilizzare il cemento vecchio ma questo è un tema che deflagra va oltre quello che ci ha che ci hanno richiesto di sana pianta quindi il ciclo dell'acqua risentirà gravemente del cambio climatico e per eccesso e per difetto e lo si è visto il retrone è il tuo laboratorio chiaro privato apri casa e guardi come è messo e prendi fai le tue riflessioni sì magari torniamo appunto su questo tema dell'abitare se lo intendiamo come prendersi cura di un luogo stare stare in un luogo accorgendosi insomma di quello che succede e effettivamente è molto strano non so non so se è successo anche a voi con con altri elementi dei paesaggi che abitate ma io ci ho messo molto a accorgermi che qui c'era un fiume non sono venuta a abitare ai ferrovieri perché c'era un fiume o perché c'era un parco ho trovato questa casa abito proprio qua in via baracca perché aveva un pezzettino di terra e avevo in mente di fare un orto fondamentalmente è stato questo il tema quindi questo ci riporta anche a un altro degli argomenti che è proprio il margine il confine che non c'è tra terra e acqua in questo quartiere è molto evidente quindi dove finisce il fiume dove inizia il parco dove inizia il quartiere è tutto abbastanza diciamo in qualche modo confuso e appunto senza senza questi confini che noi terremmo invece a sottolineare spesso magari vuoi fare un orto ai ferrovieri e poco dopo ti accorgi il tuo vicino lo irriga prendendo l'acqua dal fiume e inizia a riflettere su questa cosa si inizia a parlare di PFAS sono già dieci anni che abito in questo quartiere e ti accorgi che non puoi assolutamente irrigare l'orto con l'acqua del fiume e già lì i confini iniziano a modificarsi poi ovviamente c'è tutto il grande tema che insomma abbiamo conosciuto bene di come durante il covid tutte queste aree fossero diventate anche degli spazi molto più vissuti mi ricordo insomma che anche qui soprattutto per i bambini il parco del retrone era molto popolato e per fortuna c'è comunque anche qui diciamo proprio degli abitanti delle persone che hanno voluto creare anche uno spazio pubblico condividerlo con altre persone per esempio dove abito io non c'è questo slargo è tutto molto più chiuso ognuno ha il suo pezzettino ci sono diciamo dei confini che sono fatti da delle siepi oppure ci sono dei garage di lamiera chiusi e questo messaggio che questo lato del quartiere ha dato di provare a costruire un progetto collettivo un'area dove possiamo stare anche bene insieme o ritrovarci a parlare per esempio o a giocare e di là che sono solo pochi metri non è ancora passato alcune persone preferiscono ancora stare appunto con questi confini più stabili e e poi stando stando in un luogo ti abitui a osservare le dinamiche del posto dove abiti e nel frattempo succedono cose che vuol dire che appunto c'è qualcuno che magari si mobilita per tutelare un posto del quartiere che rischia di scomparire nasce un nuovo comitato un piccolo un piccolo gruppo che si ritrova anche su cose piccole qui c'è un parco giochi si organizzano delle iniziative comuni per i bambini oppure cose anche più strutturate come questa mobilitazione per esempio per salvaguardare i due boschi di Calte e della Lane Rossi che dovrebbero essere abbattuti dal cantiere del Tav solo per dire che secondo me tutte queste cose sono in connessione sono messe in connessione se vogliamo il fiume resta proprio un elemento che le collega perché circola proprio connette alcuni di questi posti da un punto di vista geografico diversi posti dello stesso quartiere e li riporta poi alla città volevo insomma volevo anche ecco soffermarmi e magari riportarti e farti una domanda su questo cioè su come anche la cartografia ci può aiutare a osservare queste trasformazioni dei luoghi in cui abitiamo se la osserviamo in diverse scale temporali e così aggiungo un altro ringraziamento a Valeria Luiselli che è l'autrice di questo libro Carte false è una scrittrice messicana forse l'avete conosciuta per un libro più famoso che è Archivio dei bambini perduti è un'autrice comunque abbastanza conosciuta e qui c'è un un piccolo racconto che si chiama Macchia d'acqua che parla della cartografia appunto e in particolare di una visita che lei fa alla cartoteca di Città del Messico dove si fa un po' raccontare attraverso le mappe i diversi elementi costitutivi di questa città che è proprio nata sull'acqua e vi leggo un piccolo passaggio e ti lascio la parola e lei dice tutto sommato un anatomista e un cartografo fanno la stessa cosa tracciano frontiere leggermente arbitrarie in un corpo la cui natura oppone resistenza ai confini marcati alle definizioni e ai limiti precisi mi piaceva questa connessione che fa lei che ci fa tornare diciamo la riflessione tra corpo e paesaggio e attraverso la cartografia in qualche modo possiamo forse mostrare anche queste connessioni sì una bella idea dell'uso della cartografia come il paesaggio come elemento corporeo che funziona infatti c'è la metafora del paesaggio che può essere un corpo può essere c'è molta cartografia che antropomorfizza i paesi c'è tanta alcune somiglianze che vengono fatte nei profili di alcuni paesi ma al di là di questo e tornando al nostro caro fiume vicentino ci sono molte energie che derivano dalla cartografia e sono rinvenibili per esempio la biblioteca Bertogliana è una miniera incredibile di mappe preziosissime per capire quanto importante fosse l'acqua a Vicenza dal Medioevo in poi insomma e quindi come indicano tante operatività indicano anche una certa affezione per i luoghi cioè questa importante presa di prendersi cura cercando di valorizzare il bene comune perché tutte queste mappe sono fatte per governare gli egoismi privati perché sono mappe che raccontano una richiesta di apertura di ruota di mulino veniva fatto i beni inculti a Venezia Venezia rispondeva ai tecnici sì purché non danneggi la navigazione purché non danneggi il prelievo idrico purché non danneggi l'afflusso della rimonta del pesce che deve andare a deporre le uova più a monte quindi era tutta un'attentissima valutazione del bene comune ecco un'altra parola chiave che andrebbe utilizzata cioè i margini e gli argini sono anche un deposito di beni comuni che sono assolutamente condivisibili dunque il fatto come detto Chiara prima dell'abitabilità un quartiere un quartiere rivierasco come questo infatti a me è sorpreso la prima volta che mi raccontavi di dove abitavi ma come non mi avevi detto che c'era il fiume vicino che la cosa che avrei visto subito no va fantastica che essere qui vicino a un fiume come ho detto prima che è fondamentale perché perché molte città ormai ci tengono ad essere città d'acqua ho visto guardate come stanno ristrutturando anche piccole villaggi dove c'è un corpo idrico che fluisce si mette una panchina si riordina c'è una si pianta un albero insomma piazzola sul Brenta che non è lontana da qui andate a vedere come sono organizzate le rogge come le aveva organizzate come le aveva pensate il Contarini ancora alla seconda metà del Cinquecento e poi Camerini non ne parliamo nel nel diciannovesimo secolo quindi è tutto un discorso di l'acqua che crea estetica non è solo funzionalità ma anche bellezza e quindi benessere star bene tutto ciò che riguarda la fisicità quindi torniamo anche i sensi ma io a questo punto non so aprirei anche al pubblico perché abbiamo parlato troppo secondo me e quindi anche a voi che riusciate a comunicarci qualcosa o scambiarci visto che siamo proprio un luogo magico cioè la prima volta no non è la prima volta però è raro non è così comune fare una conferenza e questo il plauso va fatto ovviamente a Di Sanapianta di parlare di fiume ed essere in fronte fiume cioè hai l'oggetto diretto ed è la cosa che mi colpisce se fossimo se ci fosse una cascatella avremmo la voce del fiume come potrebbe essere alla specola a Padova dove hai questo salto d'acqua oppure a Treviso il mulino il ponte di San Martino ma anche da voi più in giù verso dove c'è il Bacchiglione che ha quella rosta con i mulini c'è il fiume che parla a un certo punto però in certi casi sarebbe talmente cialiero che non riusciremo a comunicare perché per esempio il piave il medio piave ha dei punti in cui non ti ascolti non riesci perché è talmente rumoroso questo salto d'acqua comunque questo è bellissimo essere qui con voi a parlare d'acqua di fronte all'acqua e con gente che anche ha fatto laboratorio persone che si sono appassionate alla voce della registrazione oppure le fotografie quindi tutto quello che potrebbe aiutarci a entrare in sintonia con questo elemento che non ha voce ma che in molti paesi del mondo cercano di dargli voce anche a livello legale facendone una personalità giuridica il Waikato i Maori in Nuova Zelanda il rio Atrato in Colombia il rio Buriganga in Bangladesh sono molti corsi d'acqua che hanno personalità giuridica approvata codificata stabilita per cui i cittadini rivieraschi possono fare una class action contro chi lo inquina contro chi lo sporca o contro chi fa degli abusi ne prende troppa acqua o prende la sabbia e questo sta anche accadendo con le lagune è il Mar Menor de Mursia è la prima laguna al mondo che ha personalità giuridica e quindi adesso con Venezia stiamo mandando i nostri giovani studiosi a vedere come è possibile fare anche della laguna di Venezia un corpo idrico che può non ha voce ma gente che ha voce al suo posto di farne non so fare un esposto protestare dargli voce proprio per poter affermare il suo diritto di essere corpo idrico ecosistema con servizi ecosistemici che tra l'altro servono a noi che sono utilissimi per noi ecco vi lascerei la parola se dice quando questa idea di attribuire personalità giuridica a un corpo idrico a un fiume ecco mi chiedevo dove è esattamente il confine di quel fiume cioè esattamente cosa si intende l'argine è compreso anche 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 quindi gli interventi artificiali già presenti sono compresi per me è interessante il fatto che insomma non mi sembra così esattamente non mi sembra così chiaro il fiume è il solco dove scorre l'acqua è anche l'argine e al di là dell'argine perché qui abbiamo verificato nelle nostre passeggiate fotografiche e sonore come non è non è esattamente immediatamente percepibile proprio esattamente ecco la la personalità diciamo la figura di un fiume un'altra cosa ad esempio ecco solo in questo caso in questa serata noi grazie dell'apprezzamento per noi naturalmente non è semplicemente una bella location è fondamentale essere qui abbiamo fatto di tutto abbiamo anticipato gli eventi di sana pianta che normalmente sono un po' più spostati verso ottobre novembre per poterci permettere di stare qui mi colpiva ecco il fatto che in questo momento per come sono disposte le sedie voi Francesco e Chiara avete un'immagine dell'eretrone antropizzata con automobili che davvero passano in modo continuo abitazioni con i rumori e noi invece come pubblico abbiamo un'immagine che va verso la direzione di un posto molto più bucolico ed è lo stesso lo stesso eretrone lo stesso fiume ecco mi interessava molto specialmente quella per dire ecco delle tante sfaccettature che ha un corso d'acqua quindi esattamente penso che da un punto di vista giuridico se li vogliamo attribuire una personalità giuridica bisognerà pur definire un confine una certo come si fa bella domanda quella del fiume Waikato è stato fatto dai maori perché il Waikato è un deposito di cosmologie il fiume è sacro c'è una sacralità quindi da noi è molto più difficile infatti nel mondo occidentale non ci sono ancora ci sono molti tentativi ma i dubbi sono i tuoi con il Waikato era più facile perché il Waikato è una persona sacra fa parte del pantheon maoro quindi lì è tutto molto più semplice nel senso che c'è un radicamento profondissimo animistico molto complicato dunque da noi sarebbe forse il Piave perché è sacro alla patria non lo so mi viene in mente o perché ha questa sua sacralità infatti molte delle grave del Piave di Papadopoli no di Papadopoli di Ciano del Montello i comitati stanno dicendo per difendere da questo intervento questo è il Piave del sacro alla patria ci sono gli ossari ci sono i morti c'è l'isola dei morti c'è tutta una serie di eventi storici che vale la pena menzionare comunque Andrea è difficilissimo da noi farlo il rio a tratto in Colombia è facile perché è dentro una foresta ci sono popolazioni indie dunque è stato possibile il Buriganga in Bangladesh i fiumi sono sacri quasi tutti dal Ganga al Meggan a tutto quel sistema del delta del Sandarbang come dice Amital Ghosh quindi da noi è molto più difficile però è bella l'idea che ci sia questa possibilità di parlare è un portatore di moralità implicita come direbbe Serenella Jovino ma è difficile è una più illusione per ora per ora no è di dire salviamo i servizi ecosistemici che sono non è che siano sacri sono comunque utili avere un fiume pulito è meglio che ve lo sporco ecco tutto qua quindi potremmo avere ci sono tanti ci vorrebbe un avvocato qui che si occupa di diritto ambientale adesso con la nuova legge europea ci sono delle possibilità di impugnare effettivamente nei confronti degli amministratori che non hanno rispettato la direttiva acqua 2060 partiamo da questa è già qualcosa questo è un aspetto molto più diciamo anche concreto secondo me di quello di l'altro di cui parlavi e cioè più legato a un immaginario che abbiamo del fiume e questo lo abbiamo visto molto bene anche oggi nel laboratorio sonoro o immagino anche nel laboratorio fotografico arriviamo qui con degli strumenti che pensiamo ci facciano conoscere il fiume ma arriviamo già con una idea di quel fiume che in realtà un po' alla volta smontiamo attraverso questo lavoro di vicinanza e magari non so anche su questo sarebbe interessante forse aggiungere qualcosa sui laboratori per spiegare meglio questo processo e per esempio grazie a questo lavoro oggi diciamo fatto con le orecchie io non mi ero mai accorta così tanto di come si sentono effettivamente i rumori della strada cioè di quel del ponte di via Maganza o anche dell'autostrada che ascoltandoli con attenzione effettivamente sono davvero molto forti e sono un elemento importante di questo paesaggio sonoro del fiume è un po' un paradosso però è così ma poi tante altre cose sono uscite effettivamente magari si possono raccontare penso sarebbe interessante per ritornare a questa doppia doppia immagine del fiume effettivamente noi nello scegliere come disporre come disporre questa sala virtuale questa sala all'aperto abbiamo riservato a voi pubblico la parte l'immagine migliore e ai relatori che insomma in qualche modo fanno parte sono quelli che stanno lavorando la parte meno piacevole mi rendo conto cioè se ci riflettiamo un attimo fa parte anche questo rientra nei meccanismi che noi automaticamente richiamiamo alla memoria alla mente quando parliamo di un fiume quando ci immaginiamo un fiume cioè tendenzialmente lo immaginiamo anche sano piacevole bello e quindi come diamo un valore principale cioè assegniamo questa immagine assegniamo il fiume questa come immagine primaria poi può avere delle immagini diverse ma insomma questa è un po' quella principale ed è ecco il motivo per cui senza pensarci troppo abbiamo deciso di disporre le sedie in questo modo poi nel momento in cui si prova ad attraversare il paesaggio anche proprio in modo esperienziale camminando soprattutto e anche percependo naturalmente come dicevi Francesco gli odori oggi è stato scoperto dell'assenzio credo ecco dell'assenzio camminando c'è della menta più in là e altri anche naturalmente odori anche meno piacevoli a volte duti alla decomposizione di materiale organico ecco che tutto il il corso del fiume inizia a espandersi in qualche modo iniziamo a vedere che non esiste uno solo per quanto riguarda il laboratorio fotografico è stato interessante vedere come alcuni dei partecipanti che frequentano abitualmente praticamente giornalmente il fiume il retrone hanno detto che non l'avevano mai visto in quest'altro modo perché sono abituati a percorrerlo esclusivamente nei sentieri nei percorsi tracciati attraverso il parco retrone attraverso la strada che va in gogna no? e ad esempio questo argine non è previsto che qualcuno ci vada qui è zona privata quindi solo chi lo sa ci viene sotto il ponte perché uno dovrebbe andarci ecco eppure è sempre lo stesso ambiente nel momento in cui si tenta attraverso una rappresentazione di capire un po' meglio si vede che l'immagine che abbiamo precostituita inizia a destabilizzarsi e l'aspetto invece da un punto di vista fotografico io ho trovato molto interessante il laboratorio sonoro di oggi perché alla fine dopo i primi tentativi che abbiamo fatto di rintracciare di eliminare i suoni magari della i suoni artificiali i suoni dovuti al traffico o alla presenza umana e di rintracciare o di isolare diciamo qualcosa di naturale i tentativi i risultati mi sembra più interessanti che abbiamo ottenuti sono stati verso la fine quando abbiamo trovato un luogo che davvero è difficile definire esclusivamente artificiale o esclusivamente naturale perché si mescolavano suoni di un fuoco che era acceso in quel momento voci umane parole storie galline pollame insetti fogliame evento ecco in quel panorama così più ricco mi sembra che abbiamo capito come e l'abbiamo verificato credo anche fotograficamente come nel tenere tutto insieme nell'avere lo sguardo ampio che troviamo troviamo una dimensione forse più reale e meno preconcetta del fiume e dell'ambiente circostante Renato non so se vuoi aggiungere dal tuo punto di vista oggi è stato sorprendente anche per te e per tutti noi siamo partiti diciamo direttamente da qui per fare l'esplorazione sonora che è un posto un po' diciamo neutro di là appunto come si dice di là scusate che sono messo così però è un freddo boia allora di là c'è la parte più diciamo meno antropizzata di là c'è quella più antropizzata però il mio invito primo è stato di andare incontro alla parte antropizzata per andare anche a smontare un po' quella cosa là infatti da qui il traffico si percepisce moltissimo però stando nel punto più vicino al traffico che è sotto il ponte il traffico sparisce perché sotto il ponte c'è lo scherma quasi tutto e questo rombo che noi sentiamo è dovuto non solo al traffico ci sono altri rumori che sono degli scarichi che producono un rombo abbastanza che da questo punto di vista si assimila a tutto però quando sei là quando sparisce il traffico riesce a percepire le varie a scomporre quello che noi anche qui diciamo sempre con il preconcetto diamo per scontato che quello sia il suono del traffico in realtà è un suono molto composto che da qui non riusciamo a percepire e solo andando là e facendo esperienza di questa divisione dei suoni riusciamo a scomporre per me è fondamentale quando siamo immersi in un paesaggio riuscire a capire quali sono le componenti sia dal punto di vista visivo poi oggi abbiamo parlato molto di questo fatto del fatto che noi siamo diciamo un po' io in quanto mi occupo di suono siamo vittime del paradigma visivo che è quello che ha strutturato le nostre menti e tutte le cose le dobbiamo paragonare a qualcosa di visivo anche per parlare di suono e quindi riuscire a scomporre il paesaggio sia visivo che sonoro ce ne fa prendere coscienza di tutte le componenti e se dobbiamo o eliminare o preservare sappiamo quali sono perché altrimenti c'è questo diciamo il paesaggio è un bellissimo termine ma molte volte è generico perché comprende tutto e se noi non sappiamo che cos'è quali sono gli elementi di questo tutto finiamo o per sottovalutarlo o per non capire quali sono le azioni che possiamo fare all'interno chiudo qui si Francesco deve andare noi intanto continuiamo grazie grazie io sono stata adottata a Vicenza sono stata qui tanti anni ma sono friulana e delle cose a cui si è riferito Renato e anche questa conversazione mi ha fatto pensare che quando sono arrivata qui rispetto alle idee che abbiamo di fiume io questo fiume non l'ho mai considerato cioè per me non è un fiume l'ho scoperto oggi e ho messo una foto del tagliamento laggiù perché ho proprio un'idea di fiume che non e io qui il fiume non l'ho sentito ho fatto tanta difficoltà mi è piaciuto lo stesso però erano suoni umani di umano poi si aprono tante domande che relazione e l'umano a col rispetto alla sacralità perché il tagliamento sta vivendo un momento di difficoltà come tanti fiumi in Italia per salvaguardare la pianura si sta cercando di creare degli argini più verso la piede montana e la montagna è uno dei pochi fiumi in Europa che ha gli argini naturali e quindi pensando alla sacralità dei fiumi mi riconduco a un passaggio di Pasolini mi emoziona tanto scusate e dice ho voglia di essere nel tagliamento ma direi in tutti i nostri fiumi e lanciare i miei gesti uno dopo l'altro nell'elucente concavità del paesaggio il tagliamento qui è larghissimo un torrente enorme sassoso candido come uno scheletro ecco quindi sento tantissimo questa connessione no? e forse la possibilità che avremmo di salvaguardare queste acque di tutti sono di potersi di nuovo perdere in un paesaggio del filuviale come quello che io sperimento quando sono nei fiumi friulani c'è proprio la possibilità di dimenticarsi di sé di non comprendere più il dietro il sopra il sotto l'avanti ma veramente un un altro tipo di di cammino ecco queste sono le sensazioni rispetto ai suoni mi dico quello che abbiamo affrontato è qual è il confine il luogo giusto in cui noi umani possiamo metterci ecco questa è la domanda per ascoltare è emerso un po' questo grazie c'è qualche altro intervento andiamo verso la chiusura sì nessun altro vuole aggiungere qualcosa sicuri no grazie Anna io anche questo che raccontavi adesso credo che tutti e due questi laboratori hanno dovuto un po' sfidare il concetto di naturale ne abbiamo parlato c'è quest'idea del fiume come paesaggio naturale ma invece poi un avvicinarsi alla consapevolezza che almeno qui di naturale c'è davvero molto poco in realtà e allora magari in chiusura volevo così portare un'ultima citazione anche un'ultima donna tra noi che è Gloria Anzaldua è una una scrittrice texana cicana anche lei insomma viene dal mondo del femminismo ha scritto questo testo molto breve che si chiama vivere nelle terre di frontiera significa che è una sorta di cantata non ve la leggo tutta però diciamo la sua chiusura secondo me può essere un po' ispiratrice anche per noi ovviamente lei parla delle terre di frontiera del vivere le terre di frontiera come donna diciamo nel suo posizionamento anche proprio meticcio marginalizzata in certi confini imposti dalla società per le sue origini principalmente per alcune sue scelte di vita però appunto in chiusura di questo brave testo dice per sopravvivere alle terre di frontiera devi vivere sin fronteras essere un crocevia in qualche modo mi piaceva pensare che siamo partiti dai margini dagli argini per aprirci a questa immagine del crocevia che forse ancora insomma ci porta in un nuovo immaginario e mi piace anche pensare che con i prossimi incontri di sana pianta potremo continuare a esplorare queste connessioni nei crocevia futuri però magari lascerei a voi la parola per quanto riguarda la restituzione del laboratorio fotografico noi stessi ancora non abbiamo visto realmente finora le fotografie che sono state realizzate anche perché molti hanno lavorato in analogico dunque ci vuole un po' di tempo però noi abbiamo pensato di restituire le immagini sotto forma di cartolina illustrata di cartolina postale chi chi di voi vuole ricevere una cartolina può lasciare nel tavolino dietro di voi il proprio indirizzo postale questa volta non indirizzo mail il nome il cognome e l'indirizzo postale e nei prossimi giorni riceverà una cartolina questo è un altro tema che stiamo con UBIF a cui stiamo lavorando che proprio riguarda il quartiere dei ferrovieri e abbiamo pensato che utilizzare un mezzo che adesso sta diventando è già obsoleto però è stato moderno alle sue origini potesse essere un modo diverso per dare un modo nuovo per dare importanza a un luogo periferico un luogo in qualche modo marginale e a un fiume che come abbiamo visto crediamo di sapere mentre magari dobbiamo conoscerlo meglio esplorarlo un po' di più ecco quindi chi di voi ha voglia può lasciare l'indirizzo e nei prossimi giorni riceverà una cartolina è una cartolina d'autore prodotta da noi la settimana scorsa qui su elettrone grazie mi sembra di aver detto tutto per quanto riguarda le comunicazioni tecniche allora grazie mille di nuovo a tutti voi a Renato Rinaldi è andato via Francesco e devo ringraziare il comitato di quartiere e Andrea che ci ospita la cooperativa insieme UBIF con cui abbiamo inaugurato una collaborazione che sarà credo lunga e proficua e naturalmente Chiara Spadaro grazie Chiara grazie